Ma ci sono diversi motivi. Il primo motivo è che questa sorta di villaggio che mette insieme appassionati e praticanti di vari sport, non solo del nostro sport, del basket, ma di tutti gli sport, di tanti sport, di squadra individuale, è un momento di confronto bellissimo. Perché veramente da chi fa altri sport si possono imparare tante cose e in più è anche proprio un momento di confronto.